In questi anni ho lavorato all'attuazione dell'asse 6, che è l'asse appunto relativo alla programmazione delle politiche urbane, di sviluppo urbano sostenibile nella nostra regione. È stata un'esperienza estremamente positiva perché ci ha consentito di lavorare insieme alle amministrazioni locali e di sperimentare con loro che sono abituati a immaginare la città con un pensiero piuttosto corto, nel senso che loro sono abituati a lavorare sull'emergenza, sulle piccole situazioni da risolvere ogni giorno e per i quali i cittadini pressano continuamente. Invece abbiamo sperimentato con loro come si può immaginare la città da qui ai prossimi 10 anni con politiche e visioni di respiro un po' più lungo. Questa cosa ce l'ha chiesta la Commissione Europea e forse è la cosa più importante che traiamo da questa esperienza, cioè alzare un po' gli occhi dal quotidiano, dal reale e cominciare a immaginare il futuro delle nostre città, tenendo conto di alcuni parametri, di alcuni cardini che sono irrinunciabili. L'idea di una città più vivibile, più sostenibile, più smart e più inclusiva perché tutte queste dimensioni fanno della città un luogo in cui vivere, vivere bene e vivere in una positiva anche relazione di benessere, non solo economico ma anche sociale con chi vive accanto a noi. Grazie